let's go bene ho voluto fare un vlog perchè domani partirò per colonia per la germania sicuramente vi state chiedendo power ma cosa vai a fare in germania aspetta ma prossima settimana non ci stanno le qualifiche della pro division della code world league si bene e sto andando lì per castarle farò parte del team degli analisti dell'analyst desk in cui analizzerò il pre partita il post partita quello che succede durante i match ovviamente tutto in inglese farò parte dello streaming di esl inglese in questo caso quindi è una grandissima opportunità per me e come sapete vi avevo già detto che ho una grande opportunità di lavoro per l'activision sarebbe stata proprio fare l'analista per tutta quest'anno per la pro division ma ho rifiutato perchè volevo giocare loro mi hanno detto pure fai bene gioca tra quest'anno se puoi riuscire a qualificarti e però l'activision ha visto che non siamo stati invitati e mi vogliono così tanto quelli dell'activision americana che mi hanno chiesto se potevo venire almeno per questo evento per la prima parte della qualificazione in cui mi pare sei team solamente si qualificheranno alla pro division bene quattro team scusate non sei comunque bitches io sono veramente felice di questa opportunità che ho avuto non vi dovrete andare lì ho dovuto comprare giacca e camicia sono un pochino diciamo teso perchè dovrò parlare in inglese comunque termini tecnici parlare davanti a quelle che sono tantissime persone quindi verrò giudicato dalle persone che sono lì però sono contento perchè comunque sono l'unico italiano dall'altro come vedete capello fatto per poter andare a fare l'evento al massimo ho dei capelli bruttissimi perchè mi sono svegliato così il cuscino ha deciso in questo caso il mio stile e niente beh cos'altro c'è da dire andrò a Colonia farò una sorta di piccolo corso se si può dire così la mattina con alcuni caster professionisti di ESL come quelli di Counter Strike LOL eccetera eccetera ci sarà Aspect che ci monitorerà ci saranno quelli dell'Activision che ci guarderanno e vedranno quello che faremo sono veramente felice di questa opportunità perchè comunque magari in un futuro se smettessi di giocare mi piacerebbe rimanere in questo ambiente spero che essendo l'unico italiano a fare una cosa del genere di portare un pochino di rilevanza anche se ovviamente è difficile ovviamente quello che vi posso dire è dovete crearvela da voi ora la vostra fortuna su COD dovete investire i vostri soldi è inutile che vi piangete addosso dovete spendere i vostri soldi dovete andare alle LAN dovete farvi vedere dovete vincere non ci sono altre scuse quest'anno in Italia come avete visto è già stata annullata la LAN di Beppe di Revertive dei Liquid quindi beh forse sì ci sarà un evento di COD quest'anno uno o due LAN forse ma non sono niente di che alla fine quello che vi posso dire io è dovete usare i vostri soldi se volete fare qualcosa e non basta che lo faccia solo un team servono tante persone che lo facciano assieme io sono contentissimo di questa cosa che mi è capitata quindi non vedo l'ora di andare lì di presentarmi in camicia e in giacca tutto serio col fazzolettino nella taschina no a parte gli scherzi è veramente una cosa bella perché comunque spero in un futuro di rimanere sempre in quest'ambiente quando smetterò di essere un giocatore allo stesso modo un'altra novità che non vi ho detto beh abbiamo vinto la Gfinity Online Variance l'altro ieri sto mettendo le POV e comunque per tutta questa settimana ci saranno vari POV e video interessanti che vi conviene seguire ci saranno gameplay ci saranno dei mini tutorial dei setup delle classi eccetera eccetera ho già preparato tutto in questi giorni mi dispiace se non ho streamato tanto ma ho dovuto fare comunque molti video per tutta la settimana beh dolce siamo arrivati alla fine del vlog non penso ci sia nient'altro da dire io non vedo l'ora di andare a Colonia sono gasatissimo farà anche freddissimo quello ci sto pensando quindi tornerò sicuramente ammalato e niente beh cos'altro c'è da dire spero di fare bella figura e di non sbagliarmi e di non giocare lì durante lo streaming io vi saluto Butchers ci vediamo al prossimo video let's go let's go let's go let's go let's go let's go